Al via la nuova stagione teatrale al Vigilanti ed è già successo per gli abbonamenti. Lo scorso anno erano 151 e a pochi giorni dall'apertura della campagna per il cartellone di quest'anno circa la metà ha già rinnovato. La stagione 2015-2016 si apre l'8 dicembre con il Quintetto di Ottoni e Percussioni dell'Orchestra Regionale Toscana che presenta le più belle colonne sonore del cinema. Domenica 10 gennaio arriva da Zelig, Nuzzo e Di Biase con Gli Impiegati dell'Amore. Il 19 gennaio la compagnia di Corrado Abbati presenta il musical My Fair Lady. Doppio appuntamento anche nel mese di febbraio, l'11 con Gli Intellettuali di Molière e il 24 con la coppia Massimo D'Apporto e Tullio Solenghi con Quei Due il Sottoscala. Il 2 marzo quattro buffe storie tratte da Pirandello e Chekhov portate in scena da Glauco Mauri e Roberto Sturno. Domenica 13 marzo arriva a Porcile di Pierpaolo Pasolini per la regia di Valerio Binasco. Chiude la stagione opera con Esperimenti Dance Company.